Allora siamo sotto alla statua del Carlo Porta e sento anche io e insieme a me anche di quattro beffiù che adesso ne chiediamo, guardi tutti belli, belli e allora adesso viene una volta diciamo qualcosa di quello che fa in casa o qualcosa di altro, anche una cosa che non fa in casa Sì, anche se mi piace per dire un po' all'Orientale, la biblioteca andrà a portare a vedere tutti questi libri del Lombard che per me che vengono da un paesotto, un po' di Milano in teoria ma non è in pratica, è una roba di matrice, fin 30 libri se va bene, sempre vi ho un bel caffierino e parlare sempre di come portare il Lombard dalla dominanza mondiale scaccia via l'inglese del sorriere della lingua ufficiale e adesso è meglio qui perché abbiamo fatto un invito al Porta e vi invito a visitare il sito LenguaLombarda.eu per stare in più sede alla nostra missione dei domini internazionali L'ho già detto di un'altra roba, su no, parla del tempo L'ho già detto di provare il Starbucks, però l'era più in più niente, dunque l'ho già detto, però l'era buona anche il caffè rinché nel Giappone è meno male un bel giretto in biblioteca e adesso, secondo te, facciamo il discorso e dunque sono contenti Sì, sì, abbiamo tirato già un... Anno Anno Sì, Anno Il criminale Un po' di vino Il Vandai E no Grazie Sempre di di, mi sono contento che anche in questa bella giornata qui di Nuoembre dopo due anni che sempre tu hai alambra per parlare della nuova autografia Lombarda siamo ritrovati ora e parliamo del nostro progetto futuro e parliamo di cosa abbiamo fatto fino ad adesso siamo andati a prendere il caffè mi a Starbucks che fosse anche a me che mi dovrei venire al Starbucks io vorrei provare però... Dica bene siamo assoluti alla Statua del Porta che è lì che l'ha rinitata l'attene a me spero che il Carlin sarà più contento di talarti in cielo è bene L'entrià pensa anche su Parle più se Lombarda a tutti quei che ne guarda avete raggiunto qualcosa? è anche importante un po' di Lombarda in una città in due anni tedesca italiana, inglese in tutte le lingue del mondo però Lombarda si è il nostro capitale dunque lo fa bene dai è più importante se ritengo una sottolinea perchè adesso devo dire che se erano in dei cinquanta fanno domani su un auto perchè è proprio importante tipo sei romi in quattro ma in realtà sei romi in cinque dunque e Miku non sa che poti giuntare niente perchè è lui la roba più importante e perchè mi parli sempre dunque basta di Miku non parlai in italiano, tedesco, francese, lombarda basta non sono rotti mal di parlai dunque viva Lombarda viva gli amici della lingua Lombarda viva il viveva il caloporto perchè è un po' che parla Lombarda a Milano di genere bravo siamo a muovir e anche in gym noi siamo a muovir e anche in gym vabbè basta quel che è un di di ben vedi ciao ciao